Sarebbero stati spacciati quintali di droga, ma non solo, anche rapine e distorsioni, tutto con il metodo mafioso, gli inquirenti l'hanno definita la mafia silente. All'alba, un'imponente operazione denominata Cupola, impegnati circa 50 uomini della polizia, si tratta dell'epilogo di un'indagine della squadra mobile di Taranto, diretta da Fulvio Manco con la direzione centrale anticrimine della polizia. Le indagini coordinate dal DDA di Lecce, dal sostituto procuratore, il dottor Milto Stefano De Nozza, 23 le ordinanze eseguite, 16 in carcere, 7 ai domiciliari, 27 persone risultano ancora attualmente indagate. Tutto nasce tre anni fa, dopo il blizzi in presa del luglio del 2017, che era riuscito a riorganizzarsi sul territorio di Manduria, ancora interessato dal fenomeno della Sacra Corona Unita. Ma non solo Manduria, il raggio di azione del presunto sodalizio si era allargato anche ad alcuni comuni delle province limitrofe di Brindisi e Lecce. Nel 2019 si riorganizza grazie alla scarcerazione di alcuni elementi di spicco. Operazione Cupola prende il nome da una sorta di direttorio composto da quattro capi quali avrebbero avuto la regia. Giovanni Caniglia, Walter Modeo, Nazareno Malorgio ed Elio Palmisano. Le vittime delle estorsioni avrebbero subito senza opporre resistenza. In alcune circostanze veniva concordato il 10% dell'introiti. In un caso di ribellione fu compiuto un atto di intimidazione di fuoco con l'esplosione di 24 colpi. Gli investigatori hanno messo a fuoco anche procedure di veri e propri riti di affiliazione. Del versante orientale della provincia di Taranto sul quale attecchiva questa azione criminale. Diciamo più che parlare di un tessuto sociale sul quale attecchiva direi che il GIP ha dato come dire un'indicazione circa la sussistenza di una forma di simbiosi tra i componenti di questa organizzazione e il territorio, quindi i soggetti sui quali l'organizzazione manifestava il proprio potere mafioso. Tanto da citare, cito ancora una volta parte dell'ordinanza di custodia cautelare, le forme di estorsione particolari, cosiddette evocative. Cioè la non necessità di manifestare la violenza apertamente ma semplicemente con la propria presenza e semplicemente con l'attestazione della propria provenienza da questi ambienti mafiosi. Quindi sicuramente anche la mancanza di denunce per i reati estorsivi ci fa pensare, oltre all'osservazione che fa il giudice, ci fa pensare che il tessuto sia particolarmente degradato e forse non ancora pronto per un salto di qualità per l'affrancamento da questa dimensione criminale e mafiosa. Una grossa operazione, un'imponente operazione che dà il senso della presenza dello Stato in maniera forte. È un'operazione che dimostra il nostro lavoro continuo, costante, incessante in una zona della provincia che è quella dell'area orientale del territorio ionico, un'organizzazione che cercava anche di farsi largo nell'acquisizione di fette dell'economia legale del territorio. Grazie a tutti!